ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi insieme a voi voglio fare un test un piccolo esperimento in una diretta mi avevate chiesto se potevo verificare il funzionamento dei son off in bassa tensione e allora ho deciso di provarlo insieme a voi nello specifico prenderemo un sonoff mini r1 quindi la prima versione con l'antennino è un sonoff mini r2 la versione nuova quella senza antenna con il morsetto grigio quella che si trova in vendita adesso proverò ad alimentarli a 12 e 24 volte vediamo come si comportano molto bene allora prima condizione di prova prendiamo un sonoff mini r1 quindi la versione ancora con l'antennino lo sto alimentando con due batterie da 12 volte in serie quindi ai due capi abbiamo 24 volt vi faccio vedere col multimetro vedete che abbiamo 25 e 8 perché sono belle cariche quindi più di 24 controlliamo se il sonoff funziona correttamente il sonoff qui è regolarmente alimentato luce fissa quindi connesso l'ho messo qua l'ho chiamato mini in bassa tensione quindi sono spento sono che si accende quindi lo accendo dall'app si accende correttamente lo spengo dal pulsantino e il sonoff si spegne quindi fin qua tutto in quadro come l'ho alimentato l'ho alimentato in questo modo ho dato il positivo su l in e il negativo della batteria su n in e lui funziona correttamente ma cosa succede succede che in uscita su l out dove normalmente esce la fase che entra in l in io avrò un positivo in questo caso a 24 volt in uscita vi faccio vedere se puntiamo un positivo su l out e un negativo qui su n in abbiamo una piccola dispersione di uscita che sono 200 millivolt anche perché adesso non c'è un carico se io accendo il sonoff vedete che mi escono i 25 volt con la stessa polarità con cui siamo entrati cos'è la polarità è il verso che abbiamo dato al più e al meno vi ricordo che ho usato il più per fare l in e il meno per fare n in lo alimento al contrario vediamo se funziona lo stesso ok l'ora alimentato si è riconnesso si accende si spegne regolarmente da pulsantino e da applicazione ovviamente se vado a misurare su l out non mi darà più il positivo ma mi darà vedete un meno 25 volt cosa vuol dire vuol dire che qua esce un negativo perché io in realtà gli sto entrando in n in col positivo quindi per usarlo in basse tensioni in corrente continua per rispettare la polarità corretta bisogna dare il positivo su l in quindi al posto della fase e il negativo su n in fatta questa prova vediamo se funziona anche a 12 volt ora lo spengo lo rimetto dritto e lo collego ad una sola batteria da 12 niente da fare a 12 non ce la fa quindi funzionano a 24 vedete che me lo danno in linea ora facciamo la stessa prova con un sonoff mini versione r2 quello senza antennino bene invece per quanto riguarda il mini r2 ho fatto delle prove qui in laboratorio e alimentandolo con il positivo su n in e il negativo su l in si riesce ad alimentare anche tensioni inferiori sto facendo delle prove a piccoli step e ho notato che con tensioni leggermente sotto il 12 tipo 11 81 si riesce a comandare ma poi si spegne quindi 11 8 è una tensione troppo bassa lui poi si riavvia e va online proviamo a dargli un briciolino 12 10 12 1 ad esempio lui si è riavviato si è connesso proviamo a comandarlo ok quindi diciamo che da 12 in su è stabile proviamo ad andare a 12 00 voilà 12 03 quindi con un 12 diretto risponde si accende si spegne ovviamente anche da pulsantino ok quindi da 12 03 in poi è stabile ovviamente avendo alimentato il mini r2 con il positivo su n in e il negativo su l in vuol dire che il massimo che potremmo avere è un negativo in uscita come vi ho fatto vedere prima con l'r1 quindi in definitiva il sonoff r1 mini si può alimentare a 24 volt e possiamo scegliere la polarità di alimentazione il sonoff mini r2 si può alimentare in tensione continua solamente con il positivo su n e il negativo su l è stabile però fino a 12 volt a differenza del mini r1 bene siamo arrivati alla fine di questo video sono riuscito per una volta a fare un video non troppo lungo vi chiedo come supporto solo l'iscrizione cliccate qua sotto iscriviti 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 perché è gratuito non vi costa niente e mi date un grosso supporto se il video vi è piaciuto anche un bel like non guasta mai vi invito a visitare il mio canale telegram i link in massidattoli se non vi piace telegram o anche la pagina amazon massidattoli tech solution io con questo vi ringrazio ci vediamo in una diretta del giovedì o al prossimo video ciao da massidattoli ciao 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 ciao